Cos'è invece un respingimento? Beh, non si era mai visto, l'abbiamo sempre solo sentito raccontare e invece Segre e Liberti hanno fatto questo lavoro per Marichiuso, è un documento straordinario che stasera ci regalano e così vedremo da vicino che cos'è un respingimento. C'è un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa. C'è un'altra cosa. C'è un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa. C'è un'altra cosa, un'altra cosa. C'è 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 un'altra cosa. Andrea 6.